Nordica propone nella categoria 30% pista, 70% fuori pista per le sciatrici questo modello che si chiama Nemesis, uno sci a costruzione in legno con doppio inserto in legno alleggerito per rendere lo sci più leggero, 98 al centro quindi per le sciatrici che amano sciare in neve fresca roccherato in punta